Presente Io sono Tu sei Lui è Lei è Noi siamo Voi siete Loro sono Imperfetto Io ero Tu eri Lui era Lei era Noi eravamo Voi eravate Loro erano Passato prossimo Io sono stato Tu sei stato Lui è stato Lei è stata Noi siamo stati Voi siete stati Loro sono stati Passato remoto Passato remoto Io fui Tu fosti Lui fu Lei fu Noi fummo Noi fummo Voi foste Loro furono Futuro Io sarò Tu sarai Tu sarai Lui sarà Lui sarà Lei sarà Noi sare Noi saremo Noi saremo Noi saremo Voi sarete Loro saranno Condizionale Io sarei, tu saresti, lui sarebbe, lei sarebbe, noi saremmo, voi sareste, loro sarebbero. Mi piace andare in montagna, sono stato in spiaggia a Genova, ho aperto un conto in banca, imparo molte cose in italiano. In Europa ci sono le montagne, ho messo molto cibo a tavola. In Sardegna il mare è limpido. La borsa di Claudia è nuova. Lui va a scuola in macchina. Arrivano in Italia lunedì. Guido l'auto di un mio amico. Ci sono 20 euro nella scatola. Lui parla col professore domani. L'ho messo su quel tavolo. Ti chiamo quando arrivo a casa. Dopo cena andiamo in centro. Vado in macchina con Sara. Andiamo al nuovo cinema. Vivo in Colombia da dieci anni. Ti sei messa un abito da sera. Starò in vacanza per un mese. Il pane. Il pane. Il succo. Il succo. Il latte. Il latte. Il formaggio. Il formaggio. Il formaggio. La marmellata. La marmellata. Il cappuccino. Il cappuccino. I cereali. I cereali. Il cornetto. Il cornetto. I biscotti. I biscotti. I biscotti. Lo yogurt. Lo yogurt. l'uovo la salsiccia la salsiccia il mio cugino sa parlare lo spagnolo io non conosco tanta gente qui tu sai dove è la stazione dei bus? noi conosciamo un buon ristorante loro non sanno il mio indirizzo tu conosci il mio compagno di stanza? chi conosce la città di Firenze? non conosco nessuno in questa città so che lui si è diplomato noi non conosciamo il tuo collega io non so parlare il giapponese io non conosco il giapponese voi non sapete quanto ho pagato oggi ho conosciuto molti studenti tu sai come si cucina il pollo mia zia conosce una ricetta buona tu non conosci nessuno di Napoli? tu non conosci nessuno di Napoli? lui non sa quanto guadagno non so cosa ci sia in quella busta ho visto un uomo che non conosco il cane sa prendere una pallina il cane sa prendere una pallina cosa? cosa stai facendo? sto facendo una cosa a cosa pensi? penso a una cosa bella da cosa l'hai capito? è una cosa ovvia uomo c'è un uomo che mi chiede indicazioni io sono un uomo gentile quasi tutti i giorni è uno sport adatto a un uomo della tua età giorno ho lavorato tutto il giorno di giorno c'è il sole di notte la luna buongiorno come stai oggi? modo non ho modo di finire il lavoro oggi in qualche modo ce l'ho fatta non mi vesto mai in quel modo paese come si chiama il tuo paese? lisa viene da un altro paese domani ho un impegno giù in paese signore dov'è claudia? nel bagno delle signore un signore molto elegante e inciampato buon natale anche a lei signore ora ora ho bisogno di un caffè con il latte l'appuntamento è tra un'ora esatta è l'ora di tornare verso casa casa il mio amico è in casa sua ho acquistato una casa nuova a casa di mia nonna ci sono i dolci parte ho fatto la mia parte del lavoro mio cugino parte per le vacanze domani da qualche parte c'è il mio telefono essere penso di essere molto stanco non essere timido fai amicizia con lui loro sanno essere molto gentili avere ho appena notato di avere molta fame lei è convinta di avere ragione a volte bisogna avere molta pazienza a napoli ci vado ad agosto domani ci svegliamo alle 8 luca ci vede tutti i giorni l'ho sentito ma non ci credo ci sono molti italiani a scuola ci vuole moltissimo tempo non ce la faccio più non ce la faccio più non ce la faccio più non ci voglio più andare appena svegli ci laviamo voi ci avete invitati al mare luca ci ha dato un biglietto non ci capisco più niente domani c'è molto da fare ci vogliono più persone qui ce la possiamo fare a finire a la scuola alla scuola le città alle città la ragazza alle ragazze i professori ai professori gli avvocati agli avvocati lo zio allo zio l'amico all'amico di la ragazza della ragazza le donne delle donne il professore del professore i bambini dei bambini gli uomini degli uomini lo studente dello studente l'amica dell'amica da la scuola dalla scuola le città dalle città il giappone dal giappone la spagna dalla spagna i medici dai medici lo zio dallo zio l'italia dall'italia in la città nella città le città nelle città il centro nel centro la scuola nella scuola i ristoranti nei ristoranti lo zaino nello zaino l'anno nell'anno su la scuola sulla scuola le città sulle città il divano sul divano i cavalli i cavalli sui cavalli gli avvocati sugli avvocati sugli avvocati lo zio sullo zio l'amico sull'amico volere voluto venire venuto uscire uscito tenere tenuto stare stato sapere saputo potere potuto fare fatto essere stato dovere dovuto dire detto dare dato bere bevuto avere avuto andare andato leggere letto chiudere chiuso vedere visto ieri vittorio è andato dal medico francesco è nato a roma i ragazzi sono rimasti in città lucia è uscita di casa alle sette barbara e irene sono venute in italia matteo è uscito con gli amici ieri marco ha guardato un film quando sei tornato dalle vacanze gli studenti hanno fatto una gita le ragazze hanno parlato della scuola il cane è nella sua cuccia la macchina è nuova il quadro è molto bello la finestra è chiusa il giornale è sul tavolo il limone è giallo l'aula è luminosa la mela è marcia lo zio di Anna è svizzero la matita è sul banco l'autobus è arancione lo zaino è pesante il cassetto è aperto la poltrona è comoda il computer è acceso il gatto è sulla sedia è il 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 un è il Grazie.